all'eredità scoppia la polemica sulla speciale ghigliottina dedicata a roberto benigni l'annuncio era stato fatto dal conduttore marco liorni su instagram rivelando che l'ultimo gioco della puntata del 27 maggio 2024 portava la firma del celebre artista durante la mance finale il concorrente sergio si è trovato di fronte a cinque parole scelte da benigni il comune denominatore era totò con la parola vincente antonio de curtis una ghigliottina raffinata dedicata al cinema ma non tutti l'hanno apprezzata su x sono esplose le polemiche con utenti che criticavano la scelta di benigni e la difficoltà degli indizi nonostante le critiche è chiaro che la ghigliottina di benigni ha stimolato un dibattito acceso dimostrando quanto sia difficile accontentare tutti i soliti leoni da tastiera non hanno perso occasione per attaccare